Da cosa dipende la qualità del nostro invecchiamento? Sono Filippo Ongaro, ex medico degli astronauti e primo medico italiano certificato in medicina anti-aging. Allora, se mi segui sai che non ho una grande passione per il termine longevità, anzi ritengo che sia stato usato troppo e che sia anche in un certo senso un termine che porta fuori strada, perché cosa vuol dire longevità? Vuol dire vivere a lungo, ma oggi viviamo già a lungo e se uno andasse a guardare la statistica di aumento degli ultracentenari è impressionante. Il vero problema è che la stragrande maggioranza di questi longevi vive gli ultimi anni della propria vita in maniera pessima, con una qualità della vita molto bassa, con una necessità di assistenza, aiuto, di supporto farmacologico ospedaliero enorme e questo sta già comportando adesso un problema molto serio in termini economici per i sistemi sanitari di tutti i paesi occidentali. Dunque continuare a insistere su questa teorica longevità che poi nella pratica è quella che vediamo tutti i giorni nei nostri anziani, mi pare una cosa un po' fuori luogo, molto meglio parlare di qualità di questo invecchiamento, di quali sono le cose a cui dobbiamo badare per garantire che sì vivremo a lungo, ma soprattutto vivremo bene, arriveremo forti, energetici, contenti e autonomi fino alla fine o il più vicino possibile alla fine. Questo è il concetto di compressione della malattia che è stato così suggerito già molte decadi fa da un ricercatore americano che si chiamava James Fries e che voleva in sostanza proprio sottolineare la possibilità di comprimere le malattie il più vicino possibile al momento della morte. Oggi sta succedendo il contrario, cioè siamo riusciti a prolungare la vita anche a persone con un livello di salute molto basso, ma tutto sommato questo ha allungato gli anni di malattia e gli anni di sofferenza. Allora il prossimo passo per la medicina dovrebbe essere quello di garantire sempre più qualità della vita e questo si fa cominciando a lavorare sui soggetti molto presto, quando sono ancora in salute. Questa devo anche dirti è la mia interpretazione di medicina anti-aging. Medicina anti-aging che vuol dire anti-invecchiamento non è una medicina né in grado di evitare l'invecchiamento né dovrebbe essere una medicina che prolunga la vita in maniera indefinita. Quello che dovrebbe fare la medicina anti-aging, che piaccia o non piaccia questo termine, io non l'ho mai amato più di tanto devo dire, è quello di cercare di preservare più capacità funzionale possibile e più a lungo possibile. Allora cerchiamo di capire un secondo da cosa dipende la qualità dell'invecchiamento. Beh in buona sostanza lo sappiamo, dipende per un 50% buono dai comportamenti che adottiamo nel corso della nostra vita. Se fumiamo, se beviamo troppo alcol, se siamo sedentari, se facciamo attività fisica invece mangiamo molto bene, quindi il nostro comportamento, le scelte della vita quotidiana sono fondamentali e determinano la fetta più importante della torta che definisce che cosa ci porta a vivere a lungo ma soprattutto a vivere bene. Un altro 20% dipende indubbiamente dalla genetica, cioè da quel patrimonio di capacità che ci sono state trasferite dai nostri genitori. ed è chiaro che in quelle famiglie in cui ci sono delle persone longeve ma sane c'è un'alta possibilità che alcuni di questi geni protettivi siano stati trasferiti. Un altro 20% dipende dall'ambiente. Su questo abbiamo purtroppo sempre meno controllo e sempre più problematiche. Per ambiente intendo la qualità dell'aria, la qualità diciamo in termini di sostanze chimiche negli alimenti, nell'acqua, ma anche se vogliamo i colori dell'ambiente, quanta natura c'è, che rumori ci sono, quanto stress c'è. Il 10% dipende dalle cure che ci possono essere fornite per mantenere questa qualità della vita il più a lungo possibile. È chiaro che sull'aspetto genetico possiamo fare abbastanza poco. Ci sono dei grandi casi di super longevi, la più famosa è Jean Calman, 122 anni e 164 giorni, passati quasi tutti ad un livello di salute buona. Certo, è un modello che scardina un po' qualsiasi ipotesi preventiva, perché la signora Calman ha fumato fino alla fine della sua vita. Ma non è questo un modello su cui scommettere. Di persone così ce n'è una su svariati milioni. Chi usa questi modelli come alibi per non adottare uno stile di vita sano perde quasi sempre sistematicamente questa scommessa. Sull'epigenetica invece possiamo fare qualcosa in più, cioè sul comportamento e come questo comportamento stimola l'espressione dei nostri geni. E qui abbiamo due tipologie di regolazioni epigenetiche. Una molto geografica, che è stata anche catalogata da alcuni ricercatori che hanno usato il nome zone blu per definire delle aree del mondo dove ci sono tante persone che non solo vivono a lungo, ma vivono bene. Le isole di Okinawa in Giappone, alcune zone del Costa Rica, la Barbagia in Sardegna, tutte zone molto isolate. Se c'è una caratteristica che queste zone condividono è proprio l'isolamento. Quindi zone che hanno mantenuto, in cui è stato mantenuto uno stile di vita sostanzialmente antico, un'alimentazione sobria, moderata, con alimenti locali, uno stile di vita molto contadino, a contatto con la natura, nel caso di Okinawa grande contatto anche a livello spirituale, grazie alla pratica delle arti marziali, della meditazione. Modelli che sono molto interessanti, però difficilmente applicabili nel mondo occidentale, nel mondo in cui noi ci troviamo a vivere. Nel mondo in cui ci troviamo a vivere noi possiamo però adottare un'epigenetica che definisco pilotata, cioè cercare di creare un insieme di stimoli simili a quelli a cui sono esposti le persone che vivono nelle zone blu, ma crearle nel nostro ambiente. E questo come lo possiamo fare? Lo possiamo fare adottando quello che io definisco i quattro fondamenti di una vita sana, cioè imparando a pilotare la nostra l'alimentazione, utilizzando dei supporti di integrazione alimentare per colmare i deficit di un'alimentazione sempre più raffinata, sempre più industrializzata, sempre più piena di sostanze chimiche, una pratica disciplinata dell'allenamento fisico che sostituisce tutta quella parte di lavoro fisico che in Occidente ormai non si fa più, e una pratica altrettanto disciplinata della gestione della mente, della parte psicoemotiva e oserei dire anche, se vogliamo, spirituale nel senso di quella parte che dà un significato più profondo alla nostra esistenza attraverso tecniche come la meditazione, la mindfulness, il tai chi, il training autogeno, ce ne sono tante e ognuno può sciogliersi la sua perché in buona sostanza agiscono tutte in maniera molto simile. Quindi, il diventare capaci di pilotare l'epigenetica significa diventare padroni dei quattro fondamenti della salute e inserirli nella propria vita quotidiana per un tempo sufficiente affinché sortiscano un'azione regolatoria profonda. E' chiaro che prima iniziamo meglio è. Poi c'è un ultimo aspetto che voglio citare che riguarda una caratteristica fondamentale di tutti coloro che vivono bene gli ultimi anni della loro vita che è l'ottimismo. E' un risvolto positivo della loro parte emotiva che permette sempre di vedere il bicchiero mezzo pieno piuttosto che il bicchiere mezzo vuoto. E' chiaro che questa è una cosa che molti vedono come una fortuna. Non è detto che sia una fortuna. Potrebbe essere anche la conseguenza di un certo tipo di pratica. Allora, se è vero che magari fino adesso nel nostro mondo, cioè nell'Occidente, questo è stato più spesso una fortuna, è anche altrettanto vero che nel mondo, per esempio, orientale, tramite la pratica appunto di tecniche di meditazione, questo ottimismo, questa positività, questa apertura, questa capacità di lasciare andare le tensioni e lo stress è la conseguenza di una pratica deliberata, continuativa, del tutto simile all'allenamento fisico. E' arrivato il momento oggi che anche in Occidente cominciamo a capire questo e a smetterla di considerarci capaci di controllare tutto tranne noi stessi. Questo è un paradosso del mondo occidentale. Siamo in grado di controllare tutto. Il tempo, il meteo, il telefono, internet, tantissime variabili che teniamo sotto controllo quasi in maniera ossessiva, anzi non quasi, in maniera ossessiva, e cediamo completamente all'idea che possiamo imparare a controllare prima di tutto noi stessi. E guarda, voglio dirti, la felicità, che è forse l'obiettivo ultimo di tutti noi, ancora più della longevità, oggi viene vista non tanto come uno stato, ma come una pratica. La felicità non è altro che una pratica deliberata, non è altro che un allenamento in cui giorno dopo giorno risetti l'equilibrio dei tuoi pensieri per, come dicevo prima, fare un passo verso il vedere il bicchiere mezzo pieno invece che un passo verso il vedere il bicchiere costantemente mezzo vuoto. Ecco, credo che questi punti siano molto importanti perché digeriti e assorbiti sono punti anche molto pratici. Alimentazione, integrazione alimentare, allenamento fisico, allenamento mentale. Il potere è tutto nelle tue mani, si tratta solo di capirlo e iniziare a darsi da fare. Ogni settimana produco contenuti nuovi utili al miglioramento della tua prestazione psicofisica, della tua salute e in ultima analisi utili per vivere quello che io definisco una vita a pieno. Questi contenuti vengono prodotti sulla base di un'analisi molto ampia delle più avanzate ricerche a livello internazionale. Se ti è piaciuto il video che hai appena visto, ti consiglio di fare tre semplicissime cose. La prima è iscriverti al mio canale YouTube, lo puoi fare seguendo il link che trovi qui e questo ti permetterà di ricevere ogni nuovo video che viene prodotto automaticamente. La seconda è di andare sul mio sito, lasciare la tua mail in modo tale da essere continuamente aggiornato sui nuovi articoli che scrivo e sui nuovi studi che analizzo e che ti propongo. La terza cosa è di andare sulla mia pagina Facebook e cliccare mi piace in modo tale da entrare in contatto con me nella vita quotidiana. Lì potremo scambiarci opinioni, pareri, potremo discutere di vari temi. Tre semplici cose se ti è piaciuto il video che hai appena visto, falle, così restiamo in contatto.